ciao ragazzi oggi vi faccio vedere i glowy xl ci avevo già fatto un video però voglio rifare sono tornati di nuovo in edicola sono super coloratissimi e super puliti quando ne aprite uno e anche profumati questo profumo di fragola allora i vecchi non profumavano o sbaglio voglio rifare l'arcobaleno che avevo fatto l'altra volta allora apriamo tutto e ragazzi adesso io sono a cattolica sono a cattolica in un hotel cosa sei venuto a fare a cattolica a vedere l'acquario ti è piaciuto non siamo usciti perché c'è un brutissimo temporale ma in realtà sta piovendo e basta però no io questa cosa non l'accetto perché a cattolica è un luogo di mare ci dovrebbe essere sole divertimento mare nuoto no c'è pioggia tutta andanza e non l'accetto sta cosa è per niente cavolo accetto ma questo già è più lungo ragazzi si allungano fino a 5 metri questo è il mio preferito quello verde oh che bello che bello che bello allora smontiamo tutto facciamo prima smontiamo tutti i glaui così questo profumo d'arancia questo di limone questo di mela questo blu di mertillo magari questo di mela profumo allora vi proviamo così abbiamo finito l'arcobaleno dai dai appiccicatoce qui dai ti prego ecco ok il nostro arcobaleno si è formato un po' però così strano vabbè almeno un mischio di colori ecco questo è l'importante treccia c'è una treccia bellissima e poi c'è un profumo tutto un mix guardate eeeh Trial tiriamoli un po' almeno uno a me qua guardate che bello tutto un perciò tipo una chitarra a una corda che bello guardate che fate così che bello cioè faccio così e poi è un mischio di colori bellissimo e comunque li trovate in edicola spero tanto che questo video così così guardate che bello guardate che bello questi tre belli ragazzi spero tanto che questo video questo così questo video mi sia piaciuto mi piacioccio mi piace cecce così così mi piace cecce eeeh se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo e tutti questi glow ciao ciao aspettate così ciao 3 2 1 e pa 1 2 1 2 2 2 3 2 3 5 5 6 6 7 8 9 10 10